Poiché l'acqua è la molecola che caratterizza gli esseri viventi, perché diciamo è presente la sostanza presente in percentuale maggiore, vediamo qualche caratteristica dell'acqua. Innanzitutto l'acqua è una molecola, cioè un aggregato di atomi legati insieme da legami covalenti. La sua formula è H2O che significa due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. Come si può vedere in questa rappresentazione queste due sfere bianche sarebbero due atomi di idrogeno che sono incastrati, diciamo sono legati a questa sfera più grande rossa che rappresenterebbe l'atomo di ossigeno. Anche qui, che questo è un modo di rappresentare la molecola d'acqua, si vede l'ossigeno al centro e i due legami covalenti, queste due linee che uniscono l'ossigeno all'idrogeno. L'idrogeno, vedete, forma un angolo, per motivi che adesso non vi spiego, comunque di 104 gradi e rotti. Ecco, questa è un'altra rappresentazione della molecola d'acqua. Al centro c'è l'ossigeno legato ai due idrogeni. In questa rappresentazione si evidenzia, vedete questi simboli greci che è un delta, delta più, delta meno, delta più. Questa rappresentazione evidenzia che gli atomi in questa molecola hanno delle parziali cariche positive, i due idrogeni, e negativa l'ossigeno. Per questo motivo, a causa di queste parziali cariche, è un po' come se la molecola d'acqua fosse una piccola calamita, per cui le molecole si attirano tra di loro, almeno i poli positivi dell'idrogeno attira il polo negativo dell'ossigeno, e si forma un legame di natura elettrostatica che si chiama legame a idrogeno. Questo legame è molto importante perché sono questi legami tra le molecole che fanno sì che a temperatura ambiente l'acqua sia liquida. Quindi a temperatura ambiente ci sono almeno due o tre legami, perché questi legami in fase liquida si rompono e si riformano in continuazione. Sono legami deboli, però ci sono, per cui tendono a rompersi facilmente, ma si formano anche facilmente. Per cui all'interno dell'acqua liquida ce ne sono così statisticalmente almeno 2,4, vuol dire che ce ne sono due o tre che si rompono e si formano in continuazione. Grazie a questi legami a idrogeno, praticamente le molecole stanno sempre ben unite tra di loro, questi legami tra le molecole in generale vengono anche detti, vedete, forze di coesione, quindi la parola coesione fa riferimento ai legami che esistono tra molecole del stesso tipo, come tra le molecole d'acqua. Queste forze di coesione fanno sì che l'acqua abbia, per esempio la goccia d'acqua tende ad avere una forma sferica e questo si vede nella forma dell'acqua a goccia. Però nel momento in cui la goccia si attacca a qualcosa, ecco che compaiono altri legami diversi perché in questo caso l'acqua si attacca a una sostanza diversa, in questo caso la ragnatela o in questo caso il filo d'erba, queste forze invece tra sostanze diverse, per esempio acqua e la foglia, si chiamano forze di adesione. Quindi abbiamo forze di coesione che si evidenziano per esempio con la forma a goccia sferica e forze di adesione che si evidenziano con il fatto che l'acqua può attaccarsi ai materiali, come per esempio la ragnatela. Ecco qui un altro esempio, la rugiada è un esempio appunto di forze di coesione e di adesione, coesione perché è sferica, adesione perché le gocce stanno attaccate alla superficie della foglia, anche se alcune foglie hanno una superficie particolare dove ci sono uno strato di peli, uno strato lipidico per cui la goccia fatica a rimanere attaccata ma tende a scivolare via. Un'altra caratteristica dell'acqua è che sempre grazie a questi legami idrogeno praticamente si forma una specie di pellicola sulle superfici, una pellicola che ha anche una certa elasticità, questo fenomeno si chiama tensione superficiale e grazie a questa tensione superficiale per esempio ci sono degli insetti che possono camminarci sopra, ci sono per esempio, questi sono gernidi, sono proprio insetti specializzati nel vivere la loro vita sulla superficie dell'acqua e predano altri insettini che ci capitano sopra. Anche si può per esempio cercare di far galleggiare, tra virgolette perché in realtà non è un galleggiamento, anche un oggetto metallico come questo centesimo e appunto non è un galleggiamento ma semplicemente questo oggetto rimane in superficie perché viene mantenuto da questa tra virgolette pellicola resistente determinata dalla tensione superficiale. Un altro fenomeno caratteristico dell'acqua è la capillarità, la capillarità è quel fenomeno per cui se io inserisco un tubo, un tubicino abbastanza sottile in un contenitore di acqua, l'acqua spontaneamente tende a salire all'interno del tubo e più è stretto il tubo più l'acqua tende a salire. Qui accanto avete anche un altro esempio particolare, questo è il mercurio che è a temperatura ambiente liquido, il mercurio è una specie di metallo liquido e se si infila un tubicino nel mercurio si ha una capillarità al contrario, cioè il liquido tende a scendere e il menisco, la superficie di contatto tra liquido e aria è al contrario rispetto a quello dell'acqua. La capillarità in un certo senso dipende sia dai fenomeni di adesione che di coesione perché dove c'è il menisco praticamente l'acqua tende ad attaccarsi alle pareti per forze di adesione. Poi man mano che l'acqua si attacca alle pareti trascina per coesione l'acqua che è al centro per cui in questo modo spontaneamente tende a risalire fino a un certo punto poi la colonina d'acqua che si forma genera una pressione che bilancia queste forze che la traggono verso l'alto. Un altro fenomeno che caratterizza l'acqua è il fatto che l'acqua forma facilmente delle soluzioni, cioè dei miscugli omogeni, cioè scioglie facilmente per esempio il sale, lo zucchero. Questo perché l'acqua è una molecola che ha delle cariche, come avete visto prima, in questo, eccolo qua, ha delle cariche positive e negative, facilita in qualche modo lo scioglimento di sostanze che a loro volta hanno delle cariche, come per esempio il sale da cucina, il cloruro di sodio, è una sostanza ionica, un solido ionico che ha delle cariche, per cui queste cariche interagendo tra di loro fa sì che l'acqua sia un buon solvente. Eccolo qua l'esempio, questo è, sarebbe l'atomo di sodio, meglio lo ione sodio, che viene circondato dalle molecole d'acqua e quindi lo portano in soluzione facilmente.